Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con tutto quello che è successo nel mondo cripto nelle ultime 48 ore perché nonostante oggi il mercato azionario americano sia chiuso lo stesso vediamo percentuali positive sulla maggior parte delle criptovalute e soprattutto delle altcoins infatti se prendiamo ad esempio anche i criptobubbles vediamo un mare di verde con percentuali che vanno anche dal 10 al 30% questo perché ragazzi perché il 2023 già l'ho detto spesso è iniziato con un piede più positivo si pensa che la fed possa adottare una politica monetaria meno restrittiva e quindi più dovish e questo potrebbe far bene agli asset a rischio come ad esempio il mercato delle criptovalute e il mercato azionario quindi è importantissimo seguirmi perché vi aggiorno sempre e prima di iniziare vi chiedo una piccolissima cosa un mi piace come al solito basta un clic e mi supportate e se non siete iscritti ragazzi iscrivetevi assolutamente al canale perché appena posso ovunque io sia vi aggiorno sempre adesso basta parlare inutilmente e iniziamo subito attenzione ragazzi perché è stata appena pubblicata anche una notizia molto importante per quanto riguarda un aggiornamento da parte di Kronos e questo potrebbe essere fondamentale per il prezzo di Kronos l'aggiornamento avverrà il 18 gennaio 2023 ne parliamo tra poco questa settimana è fondamentale perché ci sono alcuni earnings che potrebbero cambiare le sorti del mercato come ad esempio Netflix e tantissime altre aziende se vediamo questi earnings negativi potrebbero impattare ripeto negativamente anche il mercato l'S&P 500, il Nasdaq e di conseguenza anche poi il mercato cripto vediamo tantissime criptovalute ad esempio come Shiba Inu che sta introducendo sta per lanciare finalmente questa Shibarium e questo si riversa anche sul prezzo in questo video voglio parlarvi un attimo di MM Finance di Tonic con Tectonic parlarvi di CRO, Bitcoin quindi restate fino alla fine e vi ripeto che Shiba Inu sta per lanciare finalmente la Shibarium che per chi non lo sapesse è un layer 2 che permetterebbe una scalabilità maggiore fees o più basse perché per adesso Shiba Inu è un token su Ethereum quindi purtroppo deve sottostare all'Ethereum gli aspetti negativi ma creando un layer 2 questo non succede più e quindi l'adozione di Shiba Inu potrebbe aumentare nel tempo per quanto riguarda invece MM Finance lo stesso in questi giorni ha subito una bella crescita vediamo che dal primo gennaio ha visto un più 35% e soprattutto stanno per annunciare qualcosa di specifico vediamo un post sulla loro pagina Twitter The Grind Plan non so cosa voglia dire stanno per dire qualcosa di importante quindi non appena il mercato ha iniziato a mettere qualche percentuale in più sulle altre soprattutto per quanto riguarda ad esempio CRO, Shiba Inu, le maggiori altcoins nelle prime le top 20 e top 30 abbiamo visto che i progetti stanno comunque cercando di creare hype di rivoluzionarsi in qualche senso infatti vediamo anche il prezzo di Tonic in questo caso che sta registrando percentuali incredibili si può dire perché negli ultimi giorni ha registrato dal 3 gennaio vediamo un più 151% ragazzi più 151% non sto parlando di leva cioè percentuali folli ah e a proposito di trading ragazzi BitGet ha introdotto lo spot copy trading quindi sarebbe un copy trading senza traders che vanno a fare percentuali folli ad esempio utilizzando la leva e quindi potrebbe essere più sicuro qui in basso in descrizione come al solito trovate il link per registrarvi a BitGet e avete possibilità di ricevere i valori bonus tramite il mio link perché è un link affiliato poi avete anche il 5% di sconto sulle fees bonus sui depositi dategli un'occhiata è l'exchange che utilizza adesso per aprire posizioni e per fare acquisti spot quindi dategli un'occhiata assolutamente ma ragazzi passiamo un secondo all'aggiornamento Galileo di Kronos perché già so che in tanti siete curiosi questo qui è un articolo scritto da Crypto Gateway ma andiamo subito al dunque Kronos quindi annuncia un nuovo aggiornamento perché è importante questo aggiornamento? perché porterà la chain alla sua versione 1.0 uscendo finalmente dalla beta e questo potrebbe avere un impatto positivo sul prezzo di Kro Galileo che sarà il nome dell'aggiornamento è un aggiornamento di carattere prettamente tecnico come viene scritto qui vediamo anche un elenco delle cose che verranno ottimizzate come ad esempio ottimizzazione della memo pool delle transazioni ottimizzazione delle gas fees cosa molto interessante riduzione della dimensione della chain e del conseguente spazio su disco necessario a nodi e validatori migliore integrazione con il mondo Cosmos e IBC quindi sono aggiornamenti prettamente tecnici però che fanno molto bene la Kronos chain fanno avvicinare tantissimi sviluppatori che vogliono sviluppare decentralized applications su questa rete soprattutto questo fa sì che il prezzo di Kro il valore del prezzo di Kro potrebbe nel tempo subire una crescita questi non sono consigli finanziari però sono le notizie di cui abbiamo bisogno per vedere il prezzo di Kro subire una variazione nei prossimi mesi e prossimi anni quindi notizia super super bullish ragazzi e se volete vedere il prezzo di Kro raggiungere i 0.10 entro la fine di questa settimana distruggete il tasto di mi piace per quanto riguarda ragazzi il prezzo di Kro vediamo che siamo su una resistenza barra supporto davvero importante diciamo che il prezzo di Kro ha distrutto gli 0.06 e siamo arrivati sugli 0.07 in questo momento e siamo diretti verso gli 0.08 e prossima resistenza davvero da monitorare sono gli 0.09 perché se rompiamo quella già vi ho detto che il prezzo potrebbe subire un uptrend molto interessante e questa candela di oggi è davvero positiva perché ha aperto alla grande con volumi interessanti con un più 7% ragazzi quindi non è per niente male allora questo qui è il grafico 4 ore se prendiamo il giornaliero questo qui è il grafico giornaliero vediamo questa candela qui di oggi stiamo parlando di un più 9% 8% considerando diciamo l'ombra in alto però ovviamente adesso sta un po' correggendo aspettiamo l'apertura dei mercati americani domani quindi non cantiamo vittoria perché questi guadagni potrebbero essere assorbiti perché siamo estesi verso l'alto in maniera molto molto decisa e quindi potremmo vedere un reversal però attenzione per chi non mi aspettava un risveglio del genere sono contento che ciò sia avvenuto per quanto riguarda invece ragazzi il prezzo di bitcoin se prendiamo il grafico 4 ore che è quello che sto monitorando vediamo che siamo in una zona di diciamo accumulazione dove il prezzo non sa se andare verso il basso o verso l'alto come al solito il prezzo si sta stringendo pian piano perché non c'è una direzione vera e propria questo quel grafico 4 ore e se dovessimo rompere verso l'alto i 22.000 dollari non sono per niente lontani quindi ragazzi potremmo ritornare su livelli davvero interessanti toccati in passato qui oppure ritoccare i 25.000 che è una resistenza che ci ha portato poi davvero in basso quindi attenzione a quello che potrebbe succedere in questi giorni o come al solito vi aggiorno sempre seguitemi su miei social ad esempio telegram perché non appena posso vi scrivo qualcosa vi invio qualche post seguitemi anche su instagram ripeto il link del profilo vero è qui in basso in descrizione attenzione ai profili finti perché potrebbero rubarvi soldi vi chiedono indirizzi cose del genere non inviate mai nulla perché non sono io non vi contatto mai in privato non vi chiedo soldi quindi occhi super super aperti per quanto riguarda invece il bitcoin offrire un grid index ieri eravamo al numero 52 ragazzi che bel numero 52 in zona neutrale oggi siamo al numero 45 perché abbiamo visto un po' di correzione però se dovesse continuare questo uptrend sicuramente il fear del grid index come sentiment in generale potrebbe risalire e vi dico che chi ha accumulato in zone di 0.05 per quanto riguarda croppure bitcoin 15.716.000 adesso già è in un profitto davvero abbastanza importante solo facendo trading spot quindi acquistando e vendendo normalmente senza leve figuratevi chi ha fatto trading con le leve ed è riuscito a cavalcare questo uptrend detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video vi ricordo di lasciare un mi piace per supportarmi e se non siete iscritti assolutamente iscrivetevi al canale se avete qualche richiesta per quanto riguarda le criptovalute come al solito scrivete un commento qui in basso perché io cerco sempre di rispondervi e di accontentarvi nei video mi fa molto molto piacere leggere i vostri commenti e ovviamente leggere le vostre richieste anche ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao a tutti